Buongiorno a tutti, grazie prima di tutto dell'invito. Il metodo di lavoro che sta seguendo Legambiente su questo specifico provvedimento approvato per iniziativa del Parlamento italiano, un metodo di lavoro che dovrebbe sensibilizzare, credo che lo faccia considerevolmente stamattina, il Parlamento ad applicare questo modo di agire su tutte le leggi che approva. Io vorrei semplicemente dare un contributo in quanto Presidente di un comitato qui alla Camera che si chiama Comitato di Sorveglianza sull'attività della documentazione. È una di quelle cose che non fa notizia, che fa un po' un lavoro dietro le quinte e che in questo momento sta cercando di produrre il primo rapporto sul controllo parlamentare della Camera dei Deputati. Voi sapete bene che la Camera ormai da anni produce un rapporto sulla legislazione, sulla qualità della legislazione che produce. Difficilmente invece ci siamo ritrovati a considerare ex post le leggi che approviamo. Cioè c'è un problema da cui nasce l'iniziativa del comitato che presiedo e che oggi si porta avanti anni luce col lavoro grazie al rapporto che ci ha presentato Lega Ambiente. I cittadini sempre di più per strada, ovunque vado, anche in conferenze, mi dicono va bene avete approvato quella legge, ha un nome bellissimo e anche un contenuto bellissimo, nessun problema, ma sulla mia vita sta avendo degli effetti positivi? Perché io quella legge sulla mia famiglia non vedo che sta producendo degli effetti? Perché, dobbiamo dircelo, l'Italia ha la capacità a tutti i livelli del suo Stato di produrre un atto avente valore di legge ogni giorno ormai. E questa produzione legislativa così grande, da una parte fa sembrare anche attraverso conferenze stampa, interventi nei Tg sacrosanti, che ci sia una grande produzione normativa, ma dall'altra i cittadini si chiedono se quella produzione normativa è stata applicata, attuata e quindi applicata. Questo è un problema perché, dobbiamo dircelo, la legge sugli acoreati le procure non vedevano l'ora di... la stavano aspettando da anni, quindi non hanno avuto problemi ad applicarla velocemente. Però ci sono tanti altri provvedimenti normativi che hanno bellissimi titoli e bellissimi contenuti, ma che mancano dell'attuazione. E quindi sostanzialmente facciamo una legge, ma i cittadini non ne vedono il giovamento. Questa cosa io l'ho vista proprio sulla mia pelle, nel senso nella mia attività da deputato, quindi non da vicepresidente. Ho fatto approvare degli emendamenti anche importanti a mia prima firma o a prima firma di altri colleghi della mia forza politica. E come vuole, ovviamente, la consuetudine, quando hai un successo lo pubblicizzi. L'errore che ho fatto spesso è stato quello di pubblicizzare l'atto normativo approvato senza verificare se fosse attuato. E quindi magari dopo due anni, dopo aver pubblicizzato in tutte le salse quel provvedimento approvato o quell'emendamento, perché facendo parte di una forza di opposizione è molto più probabile che venga approvato un emendamento, poi venissero da me delle persone dirette e interessate e mi dicessero, ma lì non è cambiato niente, la tua norma non sta funzionando. E andando a verificare, o a volte mancano i regolamenti attuativi o a volte l'attuazione stravolge la norma stessa che è stata approvata dal Parlamento. Quindi che cosa abbiamo fatto? Un po' sulla falsarica di quello che ha fatto il presidente Bratti e tutta la commissione di inchiesta bicamerale sul ciclo dei rifiuti, nel monitoraggio che ha avviato sull'attuazione della legge sui acoreati, cioè stiamo cercando di produrre un rapporto che individui delle leggi simbolo di questa legislatura e ne verifichi l'attuazione e l'applicazione in modo tale da cominciare ad esaltare, se mi passate il termine, l'altra funzione che ha l'organo legislativo di questo Paese, che non è solo quello di legiferare, ma anche di controllare la sua attività di controllo, secondo me, è stata troppo spesso tralasciata a tal punto che gli uffici competenti che dovrebbero occuparsi di questo, anche nell'amministrazione Camera, al netto del blocco del turnover e di tutta la spending review, hanno 3-4 unità di personale che non possono pensare assolutamente di riuscire a monitorare l'attuazione di tutti gli atti aventi valore di legge che noi licenziamo. Allora, il rapporto che stiamo cercando di mettere in piedi cerca di seguire la stessa metodologia. Perché è importante? Perché se la Camera e il Senato approvano una norma e ne verificano l'attuazione, va da sé che se l'attuazione e l'applicazione non stanno funzionando come si deve, interviene con norme a correzione di quella norma che ha già approvato. Questo molto spesso, invece, noi ne abbiamo fatto un... ce ne siamo accorti come potere legislativo, vedendo anche un po' quello che è accaduto nelle passate legislature, solo quando i media magari andavano ad individuare determinati casi, portavano all'attenzione dell'opinione pubblica un problema di applicazione di una norma e quindi il Parlamento si sentiva investito della responsabilità di andarla a modificare. In realtà dobbiamo fare un monitoraggio costante e secondo me il monitoraggio costante ci farà arrivare anche ad un'altra deduzione. Il fatto che non possiamo produrre così tante norme. Noi abbiamo, secondo me, una visione, ma io dico, diciamo in generale, secondo me culturale nel Paese, che dobbiamo andare a fare una norma per ogni angolo del nostro vivere civile. Per ogni cosa dobbiamo andare a fare una regolamentazione. In realtà questo probabilmente ha creato anche quella che a volte viene sempre chiamata la burocrazia, gli impedimenti, le scartoffie e hanno creato anche a volte la corruzione perché solo chi poi è in grado di districarsi in questa giungla di centomila norme riesce poi ad avere un grande potere in questo Paese e a volte lo mette a servizio del male. Quindi, per andare anche su quelle che sono le proposte e le gambiente sulle altre norme. Io credo che la legge sugli agoriati abbia dimostrato che se si vuole e se c'è volontà politica da parte delle forze politiche in Parlamento di maggioranza e di opposizione, le norme si approvano. E questa ne è la dimostrazione, anche perché la sua valenza di legge di iniziativa parlamentare ne fa veramente, non dico una cosa unica, un atto unico in questa legislatura, ma per la sua importanza è come se lo fosse. Le altre proposte che vengono alla legge ambiente io credo che debbano interessare subito anche le capigruppo di Camera e Senato per individuare nei calendari d'aula e nei calendari di commissione già delle caselle da riempire con alcuni di questi temi, anche perché la legislatura, insomma, non dico volge al termine, però mancano due anni ufficialmente poi non si può mai sapere, quindi sbrighiamoci e cerchiamo di cominciare a lavorare per steppa anche sulle altre norme nell'ottica di controllare sempre di più come stia andando quello che abbiamo già approvato. Io penso fermamente che ad un certo punto secondo me è arrivato il momento anche in questa legislatura di fare il punto nel senso di capire quello che abbiamo approvato, come lo abbiamo attuato e come lo si sta applicando. È inutile andare avanti velocemente a fare leggi per dire che abbiamo fatto leggi se non verifichiamo quello che abbiamo già fatto e correggiamo o miglioriamo quello che abbiamo già fatto. Infine, io nel ringraziarvi ancora dell'invito, mi devo scusare se mi allontanerò, ma in queste ore le delegazioni e i gruppi parlamentari stanno verificando anche se le nostre delegazioni a Bruxelles stanno bene visto che gli attentati si sono svolti in due stazioni della metro vicino alla Commissione e al Parlamento, un'altra alla sala imbarchi dell'aeroporto. Quindi è un momento abbastanza concitato, ma credo che questi lavori stamattina, prima di tutto, impongano un metodo. Quello che avete fatto voi deve sensibilizzare sempre di più, e noi lo stiamo facendo nel comitato con tutti gli esponenti delle forze politiche, nell'imporre un metodo al Parlamento e anche ai consigli regionali, anche ai comuni, nel capire che le leggi devono avere l'obiettivo di migliorare la vita delle persone, non l'obiettivo di dire di averle fatte. Questa è una differenza fondamentale, che ultimamente si è smarrito un po', perché sostanzialmente, e questo è un fenomeno mediatico, che segue la politica, mi ci metto anche io, sostanzialmente fare una legge impegna un giorno, due giorni di notizia, poi dopo si passa ad un'altra magari per fare di nuovo notizia. Non fa tanto notizia l'attuazione, ma l'attuazione ci serve per capire se abbiamo fatto un buon lavoro, perché dire che una legislatura ha fatto 200 leggi e un'altra ne ha fatte 10, probabilmente quelle 10, se sono attuate e applicate bene, certificano un lavoro molto più qualificato della legislatura, piuttosto che avere questo bisogno di sciolinare soltanto numeri. Vi ringrazio. Grazie davvero. Anche per il rispetto ai tempi mi sembra che ci siamo al Vice Presidente Luigi Di Maio.